Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, come al solito la prima cosa che vi chiedo è se si sente bene, spero che state tutti bene, sicuramente in condizioni climatiche diverse dall'altra volta, oggi qui a Roma è un tempo strano, nuvoloso con una certa aria di umidità, invece a Palermo credo che come al solito ci sia il sole, ok, va bene allora, oggi dedichiamo questo webinar, dopo quello dell'altra volta sul Freedom of Information Act è giusto un secondo per dirvi che ho ricevuto parecchi commenti, parecchie mail, parecchie sollecitazioni, perché ho capito che quello è un tema molto interessante e anche molto caldo, siamo tutti molto curiosi di vedere come il governo tradurrà quella delega, sicuramente torneremo a parlarne appena questo succederà, non abbiamo ancora consapevolezza di che cosa poi effettivamente si sta producendo, quindi quella è una parte a cui io dedico molto interesse, la prossima volta ritorneremo sul tema del whistleblowing e per oggi ci dedichiamo a uno dei miei temi preferiti, un tema che ormai sono più di tre anni che ci accompagna nei percorsi formativi fatti appunto sia con il Formez, fatti poi individualmente da spazio etico e attualmente siamo in fase di formazione, infatti colgo l'occasione per salutare il comune di Rocchetta dove sono stato la scorsa settimana e li saluto calorosamente. Allora, etica delle scelte pubbliche, un tema che ha a che fare appunto con la formazione valoriale, l'idea è di accompagnarvi all'interno di una riflessione che ormai io sto cercando di stare attento a quello che mi succede quando sto in formazione, la mia idea è sempre di tornare a casa con qualcosa di realmente interessante da avere appreso, oltre sperando nel fatto che possa io trasferire qualcosa agli altri, però la cosa più interessante è che anche io possa acquisire informazioni e diciamo che oggi è una chiusura di un percorso di riflessione che mi sono trovato a fare sull'etica della scelta pubblica, che però parte da circa un anno fa, anche da più di un anno fa, noi facemmo tre webinar che voglio qui ricordare, tra giugno e luglio del 2014 furono i webinar anche questi in cui partecipo parecchi di voi, questi webinar avevano tre argomenti principali, il primo era sulla clima etico, il secondo era sulla leadership etica e il terzo era proprio sulla formazione valoriale. Diciamo che oggi in qualche maniera, anche se non parleremo di questi specifici argomenti, in realtà si chiude un percorso avviato più di un anno fa con questi altri webinar, quindi chi fosse interessato e non ha ancora in qualche maniera assistito a questi webinar sappia che io sono partito come riflessione proprio da questi webinar qui. Allora, cosa si intende per etica della scelta pubblica? Quando faccio formazione io cerco sempre di partire dalle parole, dai concetti chiave, poi sviluppare un caso e poi dal caso passare a un'idea più applicativa, un ragionamento che dai casi, dall'esperienza ci possa raccontare qualcosa sulla realtà che viviamo e su come affrontarla. Etica della scelta pubblica intuitivamente ci fa pensare al bene pubblico, all'interesse pubblico e al particolare ruolo che i funzionari pubblici siano essi semplici funzionari, siano dirigenti, siano anche amministratori, quindi sia componente professionale, componente politica, si trovano di fronte a delle scelte quotidianamente che devono in qualche maniera valorizzare ed avere effetto sull'interesse pubblico. Di quale scelte però stiamo parlando? Perché in realtà quando parliamo di scelta pubblica si attivano una serie di interessanti argomenti. Scelta pubblica è sicuramente la scelta di una politica rispetto a un'altra, quindi come possiamo chiamare le grandi scelte. Adottare un piano regolatore per un comune è una scelta molto importante, però scelta pubblica è anche il comportamento di un singolo funzionario, comportamento addirittura dell'uscere che ostacola l'entrata ad un cittadino oppure ne facilita ad un altro. Quali comportamenti sono da considerare rilevanti per il decisore pubblico? Quando un soggetto pubblico diventa decisore pubblico quali sono i comportamenti che deve in qualche maniera considerare rilevanti? Perché facciamo questo ragionamento? Perché lo inseriamo all'interno della cosiddetta strategia anticorruzione, all'interno dei piani triennali di prevenzione della corruzione? Perché il piano nazionale per esempio inserisce l'etica della scelta pubblica come oggetto di formazione? Nella misura formazione tutti i dipendenti dovrebbero essere formati sull'etica, sulle scelte comportamentali da preferire rispetto ad alta. Intanto ragioniamo sulle tre parole, l'etica, che cos'è l'etica? In realtà senza scomodare i grandi filosofi del passato, etica per come la insegno soprattutto ai bambini è cercare di capire quello che è giusto e quello che è sbagliato, banalizzando estremamente diciamo la parola. Invece quando si parla come se uno fosse una persona importante si dice che l'etica è quella disciplina della filosofia, vedete voi dove collocarla, che studia i fondamenti razionali che permettono di assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico, ovvero distinguerli in buoni, giusti, leciti oppure ingiusti, illeciti, sconvenienti, cattivi. L'etica separa il grano dalla crusca, insomma a qualche maniera, è quella riflessione fatta prima di attivare una scelta oppure fatta successivamente a una scelta che ci permette di capire se quella scelta che sto per fare o che ho già fatto ha dei fondamenti razionali che la facciano giudicare come una scelta giusta oppure sbagliata. Il fatto che esistano i fondamenti razionali ci fa capire che l'etica in realtà è molto simile, comunque ha a che fare molto con la pragmatica, per esempio per gli americani l'etica è giusto ciò che in qualche maniera ha un valore pragmatico, una cosa che funziona è intrinsecamente giusta, noi abbiamo invece un'idea di etica più agganciata ai massimi sistemi, al ragionamento su principi e valori, però di questo magari ne parliamo un'altra volta, adesso ci interessa sapere solo che l'etica in realtà è un processo di riflessione, su che cosa? Su una scelta, cioè su un processo decisionale, quindi un processo di riflessione che si attiva prima o dopo oppure durante un processo decisionale che è proprio l'idea della scelta, la scelta è la decisione di intraprendere un'azione, tra più alternative o opzioni da parte di un individuo o di un gruppo che in qualche maniera viene nominato come decisore, questo è ciò che identifica un processo decisionale, quindi l'etica della scelta è la riflessione prima, durante o dopo, questo è alternativo, rispetto a un processo decisionale che in qualche maniera stiamo attivando, qual è la qualità di questo processo decisionale? È il fatto che sia un processo decisionale pubblico, cioè operato da un decisore pubblico e quindi operato al fine di promuovere un interesse pubblico, interesse pubblico. Queste sono le dimensioni che toccheremo oggi e le cose di cui parleremo sostanzialmente. La prima parte però la dedicherei a una questione secondo me centrale e vorrei in questo modo cercare di trovare un fondamento razionale a un dubbio che ho sempre avuto quando parliamo di anticorruzione, perché spesso e volentieri, il titolo si chiama, grandi scelte contro piccole scelte, io spesso ho ascoltato in convegni, formazioni o semplicemente parlando con autorevoli, esperti, in realtà una strategia anticorruzione si dovrebbe occupare delle grandi scelte, perché escono fuori scandali per esempio sulle grandi opere, perché normalmente si capisce da quello che succede che la corruzione è quella, è la grande corruzione, quella che opera a livelli che volano molto più alti di quelli del funzionario pubblico e che quindi una strategia anticorruzione dovrebbe in qualche maniera mettere sott'occhio quei livelli e lasciar perdere un pochino i livelli più bassi e quelli più legati alle piccole scelte quotidiane dei nostri amministratori o dei nostri funzionari pubblici. Questa idea ha anche un senso nel criterio della sostenibilità, cioè una cosa è avere una strategia anticorruzione che vale per tutto il mondo della pubblica amministrazione e quindi un dispendio abbastanza grande di risorse economiche, di risorse di competenze, di conoscenze eccetera eccetera, un conto è concentrarsi su un pezzo dell'anticorruzione, cioè un pezzo della macchina amministrativa come in qualche maniera ci suggerisce anche il piano nazionale anticorruzione quando definisce, fate un'analisi del rischio, cercate di capire quali sono le zone in cui nella vostra organizzazione sono più sottoposte al rischio, dopodiché mettete una particolare attenzione in particolare su quelle aree a rischio. Quindi l'idea che la rischiosità dei comportamenti è misurabile e governabile attraverso un tecnicismo come appunto l'analisi del rischio e in questo modo si rende sostenibile una strategia anticorruzione perché in realtà si mette parecchia attenzione su un settore che noi consideriamo ad elevato rischio e magari si tralascia un po' un altro settore che noi consideriamo un po' meno a rischio. Questa è una teoria che ha sicuramente un valore, ma ogni volta che io l'ho ascoltato o comunque che ho avuto rapporti con questa teoria mi è sempre venuto un dubbio perché invece nella mia percezione della realtà, un po' per come sono fatto io, un po' per quello che mi hanno insegnato soprattutto quando lavoravo in altri ambiti e osservavo le organizzazioni sostanzialmente, mi hanno sempre insegnato invece di partire dalle piccole cose, cioè dai piccoli comportamenti, osservare quello che succede nel piccolo che in qualche maniera ti fa capire quello che succede nel grande. Quindi questa diversità di percezione mi ha sempre intrigato e oggi vorrei provare con voi a esplorare un po' meglio questa dimensione qui. Quando parliamo di grandi scelte, come dicevo prima, parliamo appunto della politica pubblica, quindi se decidiamo di costruire una grande opera o meno, quali sono gli interessi in campo il decisore pubblico, che tipo di processo decisionale deve attivare, quali sono le garanzie che deve in qualche maniera dare a questo processo decisionale, le piccole scelte invece sono tutti quei comportamenti quotidiani dei funzionari, dei dipendenti pubblici, veramente i meno visibili all'interno e all'esterno, quelli che assomigliano, cioè che non darebbero nessun tipo di rilevanza in qualche maniera. Quindi noi oggi ci occupiamo soprattutto delle piccole scelte proprio per cercare di giustificare il fatto che sono anche quelle importanti da tenere sotto osservazione e lo facciamo attraverso un caso. Perché attraverso un caso? Perché il caso ci permette di entrare in maniera molto concreta su queste dinamiche, un caso che tra l'altro io ho già presentato in un altro webinar ma che oggi ripresento con un'altra valenza, un'altra motivazione, perché questo secondo me è un caso che quando lo presento in aula con i funzionari pubblici ci permette veramente di entrare dentro alcune dinamiche in cui i funzionari pubblici si ritrovano meravigliosamente, nel senso che ci raccontano e mi raccontano cose molto interessanti su quello che effettivamente succede soprattutto nelle piccole scelte, quello dicevo prima. Adesso vi presento il caso che molti di voi conoscono, ma forse qualcuno non lo conosce, è che riguardano il funzionario, in questo caso Marta, che lavora in un ufficio anagrafe di una città qualsiasi, immaginate una città qualsiasi. Questo caso io non l'ho proprio inventato di sana pianta, è una specie di unione tra una cosa che mi è successa a me, quindi una cosa reale, che però chiaramente non aveva questi aspetti qui, e qualcosa che mi hanno raccontato in sede di formazione quando io ogni volta chiedo di raccontarmi quello che effettivamente succede sui luoghi di lavoro. In questo caso è un'unione tra queste due situazioni. Questa tizia, Marta, è una funzionaria che da poco, l'elemento che da poco lavora è molto importante, lavorano nell'ufficio anagrafe e si trova a gestire le procedure di iscrizione anagrafica di cittadini comunitari. Il suo lavoro è a contatto con il pubblico, che è composto per lo più da persone che non parlando italiano hanno difficoltà a comprendere quali documenti debbano produrre. Questo è un caso abbastanza tipico di un funzionario che ha di fronte un'utenza molto variegata, soprattutto straniera. Non so se conoscete poi la procedura per acquisire la residenza. Lo straniero deve presentare parecchi documenti, alcuni sono più facili da produrre, altri sono un pochino più complicati da produrre. Nel caso specifico di persone che non hanno un posto di lavoro, un documento piuttosto difficile da produrre è la copia dell'assicurazione sanitaria. In effetti, ve lo assicuro perché è successo anche personalmente a persone che sono vicine a me, quando uno non lavora, se lavora il datore di lavoro gli paga l'assicurazione sanitaria, ma se non lavora lo deve produrre un'assicurazione sanitaria privata. E questo per una persona straniera da poco arrivata in Italia, che magari non parla nemmeno tanto la lingua, può essere un problema. Sofia, una ragazza greca di cui Marta si era occupata, non avendo capito che doveva produrre quel documento e non sapendo come ottenerlo, è dovuta tornare molte volte presso quell'ufficio e Marta si è sentita di doverla aiutare. Questa ragazza, come tanti altri, ha trovato difficoltà a produrre questo documento e è dovuta tornare parecchie volte, un po' per farsi spiegare che significava, a quel punto Marta, come molti funzionali che ho conosciuto, si è sentita di dover prendere in carico questa persona. Articolo 12,1, disponibilità, correttezza, spirito di servizio, non so se vi ricordate l'articolo 12,1, dice proprio questo, che noi traduciamo come presa in carico, come la capacità del funzionario di assumere una responsabilità nei confronti di un utente che in quel momento mostra un particolare bisogno, una difficoltà e che avvicina i servizi della pubblica amministrazione spesso e volentieri e dei veri e propri servizi alla persona, ma di questo ne parliamo l'altra volta. Qual è però il problema? Perché fino a qui sembra tutto meravigliosamente in linea con il codice di comportamento. Chiedendo ad altri funzionari del suo ufficio, Marta viene a sapere che uno dei tanti broker assicurativi presenti nel quartiere ha messo a disposizione dei biglietti da visita da consegnare ai richiedenti, nel caso si trovassero a dover produrre proprio quel documento, il broker assicura anche che i propri operatori sono in grado di spiegare in varie lingue in cosa consiste l'assicurazione sanitaria e possono produrlo in tempi brevissimi ad un costo relativamente contenuto. Molto bene Marta dice, finalmente un aiuto, qualcuno si è organizzato all'interno e ha deciso in qualche maniera, siccome probabilmente questi casi ne capitano più di uno, di fare in modo di aiutare veramente queste persone organizzando questo tipo di servizio di supporto, quindi addirittura un'agenzia assicurativa, il titolare di un'agenzia assicurativa ha distribuito questi biglietti da visita con questo intento meritorio di assicurare una vicinanza all'utenza. Quindi a Marta viene in mente di consigliare a Sofia quel broker consegnandone uno di quei biglietti da visita. Adesso voi intuite dove sta il male in questo caso, credo sia abbastanza evidente, ma immaginate un funzionario a Roma si direbbe non particolarmente dentro ancora le situazioni. Mario, un collega anziano di Marta però, le fa notare che i biglietti da visita del broker non sono esposti sulle scrivanie, ma i funzionari li tirano fuori dal cassetto quando capiscono che ne hanno bisogno e questo mette un po' in allerta Marta. Inoltre fa notare Mario, il titolare dell'agenzia assicurativa è il marito della dirigente dell'ufficio e questo è un altro elemento che mette in allerta Marta. Vi state scatenando su… adesso faccio il quiz del secolo, cioè qual è l'articolo del codice di comportamento che stanno violando lì dentro, qual è l'articolo e qual è il comma, perché siamo dentro un unico articolo del codice di comportamento, ma come spesso succede nella realtà, questi articoli vanno in contrapposizione. Marta è un po' ingenua, è un po' tanto ingenua e poi vediamo che significa questa cosa qui dell'ingenuità. Allora riveliamo subito gli articoli perché Marta sta entrando in un pericoloso ginebraio, da una parte vuole adempire il suo compito di funzionario pubblico, cioè dare servizio all'utenza e in questo sta assolutamente nello spirito dell'articolo 12 quando l'articolo 12 parla appunto di spirito di servizio, disponibilità e qui se volete potete consultare veramente il webinar sull'articolo 12 che secondo me è uno di quelli riusciti meglio perché ci guida anche nel capire che cosa si intende per spirito di servizio. Però dall'altra parte la sua scelta può innescare una terribile selezione avversa, attenzione all'uso del terribile perché è sul terribile che io voglio mettere l'accento perché può innescare veramente, innescare oppure consolidare quello che è un processo di selezione avversa che è il vero danno che poi effettivamente si produce. Allora intanto cerchiamo di capire che cosa significa selezione avversa che molti di voi sicuramente conoscono ma giusto per rinfrescare un po' la memoria, in economia la selezione avversa è una situazione in cui una variazione delle condizioni di un contratto provoca una selezione dei contraenti sfavorevole per la parte che ha modificato a suo vantaggio le condizioni. Classico l'esempio dell'assicurazione che innalza il prezzo delle sue polizze in maniera arbitraria, in questo modo che molti degli assicurati scappano via dall'assicurazione e soprattutto l'idea è che scappano via proprio quelli che hanno un rischio minore perché invece quelli che hanno un rischio maggiore che avrebbero comunque contrattato con l'assicurazione sono disposti anche a tollerare un prezzo più alto, quindi qual è la selezione avversa? Che attraverso l'innalzamento del costo della polizza l'assicurazione sta selezionando proprio quegli assicurati che hanno un rischio maggiore di sinistro e in quel modo si innalza anche l'effetto, i premi saranno più alti e in questo modo l'assicurazione che voleva guadagnare di più attraverso l'innalzamento dei premi in realtà si trova a guadagnare di meno perché poi chi effettivamente ha un rischio di più rimane e chi ha un rischio minore se ne va. In questo caso la selezione avversa che opera quell'ufficio con quel comportamento è un po' questa, un agente pubblico, in questo caso Marta, ma Marta non come individuo ma come soggetto che sta all'interno di un'amministrazione, quindi in questo caso la funzionaria che da poco lavora presso l'ufficio Anagrafe, modifica le condizioni di concorrenzialità di una parte del settore privato locale, cioè per determinare un vantaggio di un soggetto o di un gruppo di soggetti, in questo caso il marito della dirigente, titolare dell'agenzia sta modificando le condizioni di concorrenzialità, attraverso quel famoso bigliettino da visita sta premiando un'agenzia nei confronti di altre agenzie, sta distorcendo la concorrenzialità e sta premiando proprio quell'operatore economico che è disposto a violare delle regole, provocando una selezione dei concorrenti, perché? Perché alcune delle agenzie che non sono disponibili a fare questa violazione delle regole si troverà in una posizione di svantaggio nei confronti di quelle agenzie, quell'agenzia in particolare che invece è disponibile a violare le regole. Che effetto ha questo? Chiaramente che effetto ha come impatto se questi comportamenti come normalmente succedono vengono fatti a un livello diffuso e da tutti, da un numero consistente di operatori pubblici? Questo ha un effetto sfavorevole per la parte pubblica, per la comunità locale, in quanto resteranno in piedi solo i concorrenti disposti a violare le regole. questa è la selezione avversa, cioè l'operatore pubblico, decisore pubblico, sia il funzionario più sfigato dell'ufficio anagrafe del comune più sfigato, ha la responsabilità in alcuni casi, in casi come questi, ma ce ne sono tantissimi di casi come questi, di selezionare la classe imprenditoriale della sua comunità, del suo quartiere, della sua città ed è una responsabilità altissima che spesso e volentieri nessuno in realtà se ne rende ben conto. Tra l'altro Marta in questo caso lo fa con un intento di spirito di servizio, ma l'effetto che ha è nefasto, perché immaginate questi comportamenti reiterati nel tempo, in quel modo le agenzie assicurative che non sono disposte a violare quella regola e quindi diciamo quelle che stanno sul territorio osservando il fatto di avere uno notevole svantaggio probabilmente chiuderanno. Questa storia della selezione avversa, se voi immaginate i vari casi che abbiamo sotto banco, purtroppo di corruzione, sono una vera piaga sociale, immaginate a Roma questo tipo di situazione con le cooperative sociali, da un certo punto in poi, si parla di tanti anni, il decisore pubblico ha cominciato a premiare solo una cooperativa sociale o solo un gruppo di cooperative che avevano affari con il decisore pubblico stesso. In quel modo un mondo di cooperative sociali, tra l'altro un mondo molto folto, molto interessante, pieno di grande esperienza, pieno di autorevolezza, ha cominciato ad avere notevoli svantaggi perché non gli entravano più i progetti. Molte di queste cooperative sociali hanno chiuso e se voi girate per Roma, nelle periferie di Roma, quel lavoro incredibile di sostegno, di supporto che quelle cooperative sociali mettevano in atto, in realtà si è quasi completamente perduto. Un tessuto sociale di una rilevanza fondamentale che svolgeva un lavoro di sussidiarietà enorme, quindi non sono comportamenti di secondo conto, di secondo conto, di irrilevanti, sono comportamenti che sono in grado di guidare, di innescare degli effetti profondi in una comunità locale, in questo modo il decisore pubblico sta decidendo che tipo di comunità vuole, una comunità collusa o una comunità integra. Ok, abbiamo detto con una certa enfasi perché quando per esempio questa storia viene fuori nella formazione in aula, quando arriviamo a questo punto e non è che ci arriviamo così, ci arriviamo passo passo attraverso le cose che ci diciamo con le persone, si crea un po' il gelo, non so se avete notato ogni tanto nelle formazioni si crea un certo gelo, nel senso che la gente si rende conto di alcune cose che spesso dà per scontato, allora per dire questo è un comportamento che può sembrare innocuo, ma dietro nasconde invece è un effetto molto, molto negativo. Quindi immaginiamo che il dottor Rossi, sempre col suo atteggiamento di riflessione sui dilemmi, si trova a concludere qualcosa della storia di Marta, la prima cosa che si potrebbe dire è che non esiste un'anticorruzione delle grandi scelte o solo delle grandi scelte, la strategia anticorruzione parte dai piccoli comportamenti quotidiani, dei singoli funzionari coinvolti spesso e volentieri nei processi meno rilevanti, quindi la classificazione dei processi a rischio con criteri di rilevanza o meno può essere a volte assai fuorviante. Io mi ricordo che, adesso non so chi, ma un responsabile della prevenzione della corruzione mi disse una volta che ho messo tutti i rischi al massimo, perché io non riesco a capire come si possa utilizzare un criterio di rilevanza rispetto a processi che tutti quanti hanno una loro rilevanza e quindi ha messo massima rilevanza di rischio a tutti i processi. Credo che abbia avuto un po' la medesima intuizione che sto cercando di trasferire a voi. La seconda conclusione che trae il dottor Rossi è quella che poi ci accompagnerà nella seconda parte del webinar. L'etica della scelta individuale, cioè la ricerca di un fondamento logico da assumere a guida del processo decisionale individuale del singolo funzionario è solo il punto di partenza. Perché? Perché in realtà quella giovane funzionaria, ingenua funzionaria di Marta, si trova dentro a un sistema, si trova dentro un'organizzazione che anch'essa esprime un'etica. Chiaramente è un'etica che va in contrapposizione con quella che noi ci aspetteremmo che fosse, ma anch'essa esprime un'etica. L'etica è giusto guadagnarci qualcosa sulle disgrazie degli altri, diremmo in maniera molto semplice. Diciamo che è un'etica abbastanza diffusa in questo paese, visto anche le cose che succedono. Però l'idea è questa, che non dobbiamo fermarci all'etica individuale, quindi non dobbiamo solamente pensare che se noi rafforziamo l'etica di Marta risolviamo la questione. Purtroppo Marta si trova dentro un sistema e se non affrontiamo pure il tema dell'etica del gruppo, purtroppo non andiamo da nessuna parte. Quindi oltre all'etica individuale bisogna mettersi in testa che dobbiamo anche affrontare il tema dell'etica dell'organizzazione, all'interno della quale il funzionario è inserito. Organizzazione che potrebbe avere adottato regole di comportamento incompatibili con la qualità pubblica del processo decisionale stesso, come effettivamente è successo nel caso che vi ho presentato. Per avvalorare ancora di più questa tesi direi che possiamo fare un altro esempio, ma ce ne sono innumerevoli di esempi. Immaginate il caso dell'operatore sanitario che dietro accordo fraudolento con gli operatori economici cosiddetti pompe funebri è tenuto ad avvertire all'impresa funeraria dei decessi imminenti o appena avvenuti dei pazienti ricoverati. In quel modo, oltre a ricavare una percentuale di guadagno su quei poveri morti e sulle famiglie su cui si graveranno queste spese, in quel modo l'operatore sanitario sta selezionando gli operatori economici locali, sta affermando che chi è disponibile a violare la legge vivrà e andrà avanti, chi non è disponibile si toglie di mezzo, in quel modo e se questo comportamento ha una certa reiterazione del tempo, la comunità locale vedrà al suo interno crescere il numero e la qualità dei soggetti disponibili a violare le regole e progressivamente allontanerà i soggetti integri. Attenzione, qui non c'è a che fare solamente l'operatore economico locale, ma se questo è il clima che si respira, da questi posti se ne vanno i migliori e non è un caso che noi viviamo una forma di emigrazione dei giovani così forte, spesso e volentieri i giovani si trovano di fronte a questi comportamenti, avvertono che si trovano in un sistema chiuso e non ci stanno, sanno che in quel sistema loro non hanno chance e quindi decidono di andarsi, decidono di emigrare. La cosa triste è che poi rimangono i peggiori, questo è l'effetto perverso, no? I peggiori continuano a votare per le stesse persone. L'etica della scelta individuale quindi si deve confrontare con l'etica dell'organizzazione, no? Allora, ecco vediamo Marta di fronte al suo dilemma, come dire, all'interno del suo percorso di riflessione individuale, cercando di trovare dei fondamenti razionali, no? L'esplorazione dei fondamenti razionali su cui lei deve poggiare la sua scelta di consegnare quel bigliettino oppure no? La prima cosa che osserva è chiaramente un riferimento normativo, immaginiamo che nella lettura dell'articolo 12 trovi i fondamenti razionali e logici per la sua scelta, io consegnerò quel bigliettino perché in quel modo opererò con spirito di servizio, opererò realmente prendendomi in carica quella persona, ma io non sono tenuto a farlo, ma siccome quella persona mostra un bisogno particolare, le darò questo bigliettino da visita. Però l'etica individuale si confronta con l'etica dell'organizzazione e può esserne sopraffatta, perché? Perché l'etica dell'organizzazione sta tutta da un'altra parte, in particolare sta violando questo comma dell'articolo 12, cioè che il dipendente al fine di assicurare la continuità del servizio deve consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e fornire loro informazioni sulla modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità, quindi il comportamento che avrebbero dovuto tenere i dipendenti in quell'ufficio era di sottoporre a Sofia, cioè all'utente, un portafoglio di agenzie tra le quali Marta avrebbe potuto scegliere quella che effettivamente lei desiderava scegliere. In questo modo invece l'organizzazione sta premiando un erogatore che ha avvicinato i funzionari di quell'ufficio per distorcere la concorrenzialità, tra l'altro in palese conflitto di interesse perché è il marito della dirigente di quell'ufficio, quindi con l'avallo della leadership. Ma attenzione perché esiste un terzo livello che fino adesso non abbiamo ancora esplorato e che io invece vi pongo per rendere ancora più complessa questa, perché Marta in realtà non solo si dovrebbe astenere da quel comportamento, in realtà se noi ci confrontiamo con l'etica pubblica, con l'etica che esprime l'organizzazione pubblica c'è un altro comportamento da tenere, non basta astenersi, ma il dipendente dovrebbe, secondo quello che ci dice l'articolo 8, segnalare al proprio superiore gerarchico, in questo caso no perché il proprio superiore gerarchico è proprio l'elemento in collusione, ma come ha espresso già l'ANAC si fa riferimento al responsabile della prevenzione della corruzione, eventuali situazioni di illecito dell'amministrazione di cui si è venuto a conoscenza, questo è un classico esempio in cui Marta avrebbe, oltre ad astenersi da quel comportamento, l'ordinamento gli sta chiedendo anche un altro comportamento, di adottare un'altra scelta, cioè di andare dal responsabile anticorruzione e far emergere quell'elemento collusivo e di conflitto di interesse che c'è in quell'ufficio, perché? Perché la qualità pubblica del processo, qui non siamo nell'etica delle scelte individuali, siamo nell'etica della scelta pubblica, la qualità pubblica di quel processo decisionare richiede quel comportamento peculiare, la peculiarità di quel comportamento, l'ordinamento giuridico quando individua processo decisionare pubblico individuo, anche dei comportamenti del tutto peculiari. Entriamo nella terza parte del nostro ragionamento e cominciamo a ragionare su criteri di compatibilità e razionalità delle scelte, la prima cosa di cui parleremo è la compatibilità. E quindi vi anticipo solamente una cosa, che questo è stato oggetto di lunghe ed estenuanti di conversazioni telefoniche con il dottor Andrea Ferrarini, che voi conoscete benissimo perché fa i webinar con noi e con quale qualche volta ci siamo intrattenuti in questi ragionamenti e che ringrazio e che in qualche maniera fa parte di questo percorso di riflessioni che vi sto illustrando. La prima cosa è la questione della compatibilità tra i fondamenti, in realtà tutta l'etica come riflessione individuale di gruppo che noi facciamo, soprattutto quando facciamo in situazioni e contesti formativi, è un problema di compatibilità, cioè noi esprimiamo un'etica individuale, l'etica individuale di soggetti e individui che pensano che sia giusto fare una cosa e pensano che sia sbagliata farne un'altra. Ci confrontiamo poi con l'etica del gruppo, cioè se la nostra etica individuale è compatibile con l'etica che esprime il nostro gruppo di riferimento, in questo caso è un gruppo di lavoro, ma poi alla fine tutto questo deve essere compatibile con l'etica dell'organizzazione pubblica. Che cos'è l'etica dell'organizzazione pubblica? Diremmo in qualche maniera è tutto quello che è contenuto nel codice di comportamento, cioè sono le aspettative comportamentali che l'ordinamento giuridico ha nei confronti del dipendente pubblico. E allora il processo decisionale cosa dovrebbe tenere in considerazione? Intanto l'etica individuale, quali sono i fondamenti razionali della scelta che sto operando? Primo step, cominciamo a ragionare a livello individuale se è giusto o sbagliato muoversi in un modo o nell'altro, è giusto consegnare quel bigliettino? Non è giusto? Se non è giusto perché? Etica del gruppo, ma quali sono poi i fondamenti razionali alla base delle scelte del gruppo a cui appartengo. In realtà osservando il comportamento del mio gruppo mi rendo conto che il mio gruppo sta valutando quella scelta come opportunità per guadagnarci qualcosa sopra. Quindi l'etica del gruppo è assolutamente in contrasto con l'etica pubblica, però in qualche maniera è ancora compatibile con la mia scelta perché in realtà attraverso la consegna del bigliettino io risolvo il problema a Sofia, cioè all'utente, però risolvo anche il problema al gruppo perché in qualche maniera mi sto prestando a quel tipo di comportamento che è del gruppo, quindi non mi sto escludendo dal gruppo, non sto facendo qualcosa diversamente dal gruppo, ma tutto questo poi deve arrivare a un criterio di compatibilità con l'organizzazione pubblica. Quali sono i fondamenti razionali delle scelte che l'amministrazione si aspetta che io operi e allora in quel momento capite bene che la consegna del bigliettino diventa un problema perché in quel momento l'ordinamento ti sta chiedendo una cosa che va ancora oltre, è più importante della garantire lo spirito di servizio, ti sta dicendo non distorcere la concorrenzialità degli operatori privati del tuo quartiere, città, perché se lo fai selezionerai in maniera avversa la classe imprenditoriale di dove operi in qualche maniera. E chiaramente qui c'è il muro, perché l'ordinamento pubblico dice attenzione, l'ordinamento giuridico dice attenzione che questo è questo valore di selezionare in maniera avversa, questo è un pericolo veramente reale, grave e può dare, in qualche maniera mettere in grave pericolo la tua comunità locale. E un po' qui vi ritraccio un po' questo percorso mentale che è dentro Marta, quindi se opero con spirito di servizio eroverò un servizio di qualità all'utenza, è un ragionamento che si fa nel suo dilemma etico, ma il gruppo dice se manipoliamo la scelta tra diversi erogatori otterremo un vantaggio economico, fin qui si legge la questione, nel senso che se Marta scegliesse di dare il bigliettino sarebbe ancora dentro questa situazione. Ma il terzo livello è se segnalo la condotta illecita la mia amministrazione adotterà delle contromisure per far cessare quel comportamento, addirittura non solo l'ordinamento dice non devi tenere quel comportamento, ma devi fare ancora qualcosa di più, devi segnalare il tale comportamento a chi di dovere per fare in modo di adottare delle contromisure. Quindi quali sono i possibili stati dell'etica individuale? Ci potrebbe essere incompatibilità tra etica individuale e etica del gruppo, però poi ci potrebbe essere anche incompatibilità tra etica individuale e etica pubblica. Cioè quello che voglio rappresentare è che spesso e volentieri l'etica individuale si trova sotto la pressione di due giganti, immaginate l'etica del gruppo, quando io lavoro con i bambini l'etica del gruppo è in assoluto la pressione più forte che c'è, per cui alla fine un bambino, un ragazzino, un adolescente soprattutto, perché questa roba si attiva soprattutto in età adolescenziale, può scegliere di violare delle regole o comunque di mettersi a rischio, mettere a rischio se stessi o altri, perché c'è un'etica del gruppo che lo sta fortemente influenzando. Quindi in realtà a livello individuale la sua riflessione potrebbe essere anche corretta, tipo non mi devo mettere alla guida se sono ubriaco per esempio, a livello individuale un ragazzo, un adolescente potrebbe essere in qualche maniera orientato verso questa cosa qui, sa quante volte i genitori gli avranno detto, sa quante volte avrà visto a scuola questi filmati terrificanti che lo mettono di fronte ai pericoli della guida in stato di ebrezza, ma poi nella sua macchina, lui è il conducente di una macchina, ci sono quattro ragazzi che dicono non ti preoccupare, sei uno sfigato se non fai questa cosa qui e gli fanno capire in maniera molto diretta che se lui non si mette alla guida lo escluderebbero dal gruppo, diventa un po' lo sfigato del gruppo. In quel caso l'etica del gruppo entra a gamba tesa sull'etica individuale e ha il potere di fletterla, quindi l'etica del gruppo è una cosa molto importante, però adesso noi ci concentriamo soprattutto sull'incompatibilità tra etica individuale e etica pubblica, perché? Perché l'etica pubblica richiede al pubblico dipendente dei comportamenti del tutto peculiari, la questione della segnalazione per esempio di cui parleremo soprattutto la prossima volta, è un comportamento che viene richiesto a dipendenti pubblici, ma non viene richiesto per esempio ai dipendenti privati o ad altre categorie di soggetti, qui ho fatto una lista di comportamenti peculiari che vengono richiesti ai dipendenti pubblici, ma spesso e volentieri non vengono richiesti ad altri, anche se effettivamente molte organizzazioni private stanno cominciando a richiedere anche determinati comportamenti. Quindi di fronte a una scelta il dipendente pubblico deve valutare la propria etica individuale, deve valutare rispetto alla sua sfera di valori qual è ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma poi deve cercare di capire se l'ordinamento gli chiede qualcosa in più rispetto a quello che lui pensa sia giusto o sbagliato. Facciamo degli esempi, il diritto di chiedere o accettare un dono è qualcosa che viene chiesto al dipendente pubblico, ma in una normale relazione privata questo non viene richiesto obbligatoriamente, l'obbligo di segnalazione l'abbiamo detto, ma l'obbligo di astensione per esempio, immaginate qual è il criterio, è che un dipendente pubblico non dovrebbe decidere quando è in conflitto di interessi, allora immaginate che cosa dovrebbero fare i genitori di tutti i bambini, tutti i genitori ogni giorno si trovano a decidere in pieno conflitto di interessi sulla vita dei loro figli, perché sono completamente dentro una relazione, quindi è quasi sicuro che non c'è quella distanza che gli permetterebbe, quella libertà di movimento che gli permetterebbe di adottare delle soluzioni in qualche maniera completamente in regime di terzi età, questo non esiste nei comportamenti privati, invece al dipendente pubblico viene fatta richiesta di astenersi in caso di conflitto di interessi, ma ancora comunicazione degli interessi finanziari, tracciabilità del processo decisionale, parliamo un attimo della tracciabilità del processo decisionale, perché c'è anche un esempio piuttosto interessante e controverso, ad un dipendente privato di norma non viene richiesto di tracciare i processi adottati per ragioni di replicabilità e di controllo da parte di un soggetto esterno, se voi fate caso, l'articolo 9 del codice di comportamento, secondo comma, dice proprio questo al dipendente pubblico, dovresti tracciare tutte le tue scelte, tutte le tue operazioni, perché poi qualcuno dall'esterno dovrebbe ricostruire il tuo processo decisionale a garanzia del fatto che quel processo decisionale sia integro. Immaginate se questo succedesse a una ditta privata o a un operatore privato, questo non può succedere, in alcuni casi addirittura il processo produttivo, il processo decisionale che porta poi alla produzione viene addirittura oscurato, perché dentro a quel processo produttivo c'è per esempio il segreto industriale, immaginate il classico esempio della Coca Cola, se i dirigenti della Coca Cola gli fosse fatto obbligo di tirare fuori la formula della Coca Cola perché così in qualche maniera sono sottoposti a controllo da parte dell'esterno, questo non viene richiesto ai dipendenti privati, è qualcosa che viene richiesto soprattutto ai dipendenti pubblici, ma lo stesso esempio si può fare, adesso questo lo saltiamo un attimo perché non abbiamo tempo, ma lo stesso esempio lo possiamo fare sulle segnalazioni, come sapete benissimo i pubblici ufficiali e i caricati di pubblico servizio sono obbligati a denunciare quando hanno notizia di reato, ma l'articolo 8 del codice di comportamento impone a tutti i dipendenti pubblici di segnalare al proprio superiore gerarchico condotte illecite, questo comportamento che viene richiesto ai dipendenti pubblici può non essere richiesto ai dipendenti privati, anche se molti multinazionali e società lo cominciano a inserire questa cosa qua, ma perché? Perché al dipendente pubblico viene assegnato anche un generale compito di tutela dell'interesse pubblico che ha le sue radici storicamente addirittura nella Repubblica di Platone, abbiamo fatto anche un webinar su questo, sul conflitto di interesse e abbiamo indicato come in effetti al dipendente pubblico viene richiesto anche di essere il guardiano dell'interesse pubblico sostanzialmente. Quali sono questi comportamenti peculiari che vengono richiesti ai dipendenti pubblici in particolare? Ho fatto un elenco di tutti gli articoli del codice di comportamento, li trovate tutti, ma qui questa slide è un po' più interessante perché in qualche maniera sto cercando di raggruppare le regole del codice di comportamento a seconda delle garanzie che quei comportamenti devono avere, per esempio c'è tutta una sfilza di norme, di regole del codice di comportamento che dovrebbe garantire che le persone, che i dipendenti pubblici quando decidono siano in una situazione di equidistanza dagli interessi, per esempio l'articolo 4, perché se uno riceve un dono superiore al modico valore potrebbe essere spinto a contraccambiare, quindi si genera un interesse secondario e in quel caso si distorce l'equidistanza, gli interessi non sono più equidistanti, si dice così, ma anche l'articolo 5, l'articolo 6, 7 e 14 hanno a che fare con l'equidistanza degli interessi, gli altri abbiamo un po' parlato insomma, quindi sono comportamenti peculiari che vengono richiesti ad un dipendente pubblico spesso e volentieri non vengono richiesti ad altri. Qui mettiamo insieme un po' tutto questo ragionamento, quali sono le cose che deve garantire un decisore pubblico prima di scegliere sostanzialmente, quindi imparzialità e equidistanza degli interessi, trasparenza e quindi replicabilità del processo decisionale, inclusività e fiducia, ne abbiamo parlato poco, ma insomma per sintetizzare ci sono anche queste garanzie. Ma qui esce fuori un secondo problema, che è il problema della razionalità delle scelte, perché? Perché un'altra teoria che gira, di cui io sento spesso parlare, è anche il fatto che noi non abbiamo particolarmente enormi risorse per fare determinati ragionamenti con tutti i dipendenti pubblici. Si dice che basta che un dipendente pubblico abbia una buona conoscenza delle leggi e delle regole di comportamento e questo in qualche maniera ci mette al sicuro del fatto che le sue scelte individuali siano più o meno compatibili con l'etica pubblica, perché qui siamo sempre nell'idea della compatibilità tra etica individuale e etica pubblica. Bisogna capire se questo è vero, quanto è lineare il processo decisionale pubblico, come facciamo a garantire questa linearità? Esiste questa situazione qui, per cui ogni volta che un dipendente pubblico si trova a dover scegliere anche i comportamenti meno rilevanti, non solo le grandi scelte. Effettivamente noi ci assicuriamo che lui faccia tutta questa analisi, cioè che parta dall'etica individuale, poi osservi l'etica del gruppo, si confronti con l'etica del gruppo, ma poi in qualche maniera faccia un esame di compatibilità con l'etica pubblica. È reale che avviene tutto questo? In realtà sappiamo benissimo che le persone non decidono così, non è che prima di decidere facciano tutta questa esplorazione, noi non ce lo possiamo nemmeno aspettare perché spesso e volentieri queste decisioni devono essere prese in situazioni di emergenza, in situazioni di scarsa informazione, di asimmetrie informative, in situazioni di pressioni che vengono dall'alto, in situazioni di emergenza personale, in situazioni che non favoriscono un'esplorazione sull'etica, sulle tre etiche di cui abbiamo parlato adesso. Non ci possiamo aspettare che le scelte siano così razionali. E allora che significa? Che non c'è etica? Che ogni volta che noi riduttiamo una scelta lo facciamo senza capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Questo dilemma se lo sono posto in tanti, questo è il problema grosso, esiste il libero arbitrio oppure no? Quando una persona decide, decide perché ha fatto effettivamente un ragionamento, una riflessione oppure questa cosa è solo un'illusione? Molti hanno classificato questa storia che vi sto raccontando come l'illusione di scegliere. Il primo ad accorgersene che c'era qualcosa che non funzionava fu David Hume, addirittura nel XVIII secolo, quando si ragionava sul libero arbitrio, lui diceva appunto che la volontà non è affatto la causa delle nostre azioni, ma soltanto un'impressione interna che avvertiamo quando coscientemente diamo inizio ad un'azione. Le nostre azioni poggiano su una volontà e questa volontà poggia su dei fondamenti razionali, poggia su una riflessione che in qualche maniera ci permette di dire che quell'azione è giusta o sbagliata. Secondo Hume no, ed è un'intuizione che poi ha creato un percorso scientifico, nel XVIII secolo non si poteva sperimentare questo, forse nel XX secolo si è potuto fare. Qual era la base? Le nostre intenzioni non causano le azioni, ma sono solamente delle ricostruzioni mentali successive all'azione stessa, cioè le persone agiscono e poi ricostruiscono in maniera illusoria una volontà che giustifica quell'azione. Attenzione, non è una cosa così lontana dal vero, se ci pensiamo. Questo tizio del XX secolo, uno scienziato, neurofisiologo e psicologo, ha cercato di effettivamente valutare se questa affermazione di Hume avesse a che fare con la realtà. Quella era una intuizione, ma non c'erano i presupposti scientifici per cercare di comprendere se questo aveva una base teorica. Lui mise in atto un famoso esperimento che diventò molto controverso, vi anticipo che non è che sia molto lineare, non tutti sono d'accordo sulle risultanze di questo esperimento, però è servito molto a creare un dibattito su questi temi. Lui voleva dimostrare, voleva cercare di misurare in quale momento l'azione diventa consapevole, cioè se l'azione è consapevole prima di agire, cioè se io mostro una volontà e una consapevolezza e quindi in quel momento prendo una decisione e poi agisco, allora lì il libero arbitrio ha un valore, ma se io dimostro che prima c'è l'azione, prima agisco e poi solo in un secondo momento si crea nel mio cervello una volontà consapevole e allora siamo in una situazione un po' diversa. L'esperimento è quello che era, ad un soggetto gli viene chiesto di compiere un'azione semplice, ad esempio flettere un dito senza decidere preventivamente quando agito, in modo da separare il processo di preparazione dell'azione da quello dello svolgimento dell'azione stessa, quindi separare il processo decisionale in cui io assumo una decisione dallo svolgimento dell'azione in cui eseguo quell'azione. Questo è il risultato che creò moltissima ansia a quelli che si occupavano di processi decisionali perché in qualche maniera Libet riuscì a dimostrare che la consapevolezza inizia in media solo 200 millisecondi prima dell'azione, cioè noi cominciamo a volere prima di rendercene conto, quindi la volizione, il processo decisionale prima parte ad un livello inconscio, poi solamente con comitanza successivamente all'azione noi ci rendiamo conto che abbiamo preso quella decisione. Questo lascerebbe intendere secondo Libet che non esiste un libero arbitro, cioè noi agiamo e poi sulla base di quello che facciamo ricostruiamo una volontà consapevole. Dennett fa un passo in avanti e soprattutto crea una descrizione molto divertente di questo fenomeno, di questo strano fenomeno. L'azione viene avviata in qualche parte del cervello, subito partono i segnali verso i muscoli che si fermano un istante sulla loro strada per dire a voi, la gente cosciente, che cosa succede. Come tutti i buoni ufficiali fanno in modo che voi, il goffo presidente, conserviate l'illusione di essere quello che ha dato il via a tutto. Quindi c'è qualcosa che si muove dentro di me, ma non è una cosa consapevole. Da un certo punto questa cosa entra nella consapevolezza e vi crea quell'illusione che noi prima decidiamo qualcosa e poi agiamo. Allora, a prescindere dalla validità di queste teorie che sono state ampiamente anche messe in discussione, però ci dicono una cosa secondo me interessante. Ed è un po' quello che diceva a Roland quando si esprimeva il concetto per cui noi non scegliamo affatto, è il nostro destino che sceglie ed è saggezza mostrarci degni della sua scelta qualunque esso sia. Cioè che non c'è una razionalità assoluta nelle scelte, ma questo è un atteggiamento, una tendenza che noi sperimentiamo quasi quotidianamente. È difficile attribuire a noi stessi, ad altri una riflessione cosciente su quello che anticipa un'azione. Noi osserviamo spesso e volentieri azioni e condotte che non hanno quasi nessuna base riflessiva, insomma, in qualche maniera. Possiamo perciò affermare che agiamo in assenza del libero arbitrio, secondo me non è proprio così. Secondo me la riflessione che mi ha fatto venire questa cosa di questi esperimenti è un'altra. Cioè le persone non sono tutte uguali, non pensano alle implicazioni delle loro scelte se non sono abituate a farlo o se ci sono condizioni non idonee alla riflessione. cioè le persone agiscono e non fanno tutta quella riflessione di cui vi ho parlato prima perché non sono abituate a farlo, perché nessuno gliel'ha veramente insegnato. Nessuno ha insegnato a loro di ragionare sulle implicazioni di quelle scelte. Nel caso di Marta, Marta Marta probabilmente si trova in una situazione in cui darà quel bigliettino perché nessuno in realtà in quell'ufficio sarà in grado di metterla di fronte a quella decisione, mettergli in discussione quella scelta. Perché in effetti tra l'altro lei è tradita anche dal fatto che consegnando quel bigliettino compie un'azione favorevole all'utente, quindi con pieno spirito di servizio. Questo mi fa ancora dire che l'etica è semplicemente, è un'affermazione di cui mi assumo io la responsabilità, è un esercizio di ricostruzione a posteriori delle implicazioni delle scelte. Noi non possiamo pensare che le persone le accompagniamo a un processo decisionale e razionale, noi possiamo solo fare questo. Nel momento in cui le persone sbagliano successivamente al momento dello sbaglio, noi possiamo accompagnare le persone a ricostruire il processo decisionale, a capire quale implicazione questo processo decisionale ha avuto e fare in modo che le persone assumano una consapevolezza che poi le aiuterà in un qualsiasi altro comportamento. Quindi l'etica è in qualche maniera successiva alle decisioni che operiamo noi o che operano le altre persone, è una riflessione a posteriore. Siamo convinti appunto che l'errore e la costruzione di una conoscenza collettiva basata su di esso sia il sistema migliore, io direi l'unico sistema, poi ho corretto, ma io avrei detto l'unico sistema che l'essere umano abbia inventato per guidare le nostre azioni verso il bene comune. in questo sono molto popperiano, Karl Popper insiste molto in questo. L'errore è la nostra unica salvezza e qui vi invito a riflettere su quanto è ammesso la discussione dell'errore all'interno delle nostre organizzazioni, quanto è ammesso l'errore nelle nostre organizzazioni, come è difficile per noi ammettere di aver sbagliato, come è difficile per un'organizzazione organizzare una riflessione collettiva sull'errore. Nella formazione valoriale invece noi utilizziamo proprio questo, la discussione in gruppo di casi concreti, cioè noi partiamo dagli errori, dall'errore di Marta in quel caso, dall'errore dell'organizzazione che gli sta intorno, per fare in modo che le persone sviluppino quella consapevolezza che li potrà guidare e orientare in successive scelte. Perciò la formazione valoriale è così importante, perché non assume l'idea che una persona, come dire, attraverso una riflessione sulle norme e sulle regole possa subito capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, no, noi facciamo entrare quella riflessione dentro la viva carne delle scelte quotidiane delle persone, anche le più irrilevanti, negli sbagli, negli errori che quelle persone compiono, perché è solo così che queste persone possono tirar fuori una consapevolezza. L'ultima, anzi una delle ultime slide è la meravigliosa etimologia del verbo errare, che come sapete ha due significati completamente diversi, apparentemente diversi, che però hanno un'unica etimologia, cioè errare, che noi traduciamo con sbagliare, ma anche con vagare, cioè andarsene in giro, viene da una forma gotica, no, che come vedete c'è scritto ersare, dalla stessa radice di scorrere, sdrucciolare, quindi errare in realtà ha un significato profondo di scorrimento, di qualcosa che in qualche maniera avviene, però significa andare qua e là senza una direzione certa, questo scorrimento non è uno scorrimento in qualche maniera certo, ed è da proprio l'idea dell'errare alla ricerca di un'etica, alla ricerca di un'etica pubblica, di una compatibilità tra etica individuale e etica pubblica. Questa ricerca non è una ricerca che noi possiamo fare a priori, cioè inserendo all'interno della testa dei funzionari pubblici la verità per quella che ci esprime il codice di comportamento. Noi possiamo solamente navigare, vagare dentro gli errori che ogni singola persona fa mentre cerca di applicare questa etica. in questo senso il verbo errare ci è molto d'aiuto perché non ci dà solamente un'indicazione contenutistica, a mio avviso ci dà invece una vera e propria indicazione metodologica, cioè noi dobbiamo andare in giro con le persone, fargli vedere le cose, cercare di capire dove hanno sbagliato e quindi errare come errore e navigazione. Perché a volte noi siamo stretti dentro delle tenaglie, delle tenaglie molto forti, quando parlo sempre di dilemmietici parlo sempre di qualcosa che ha a che fare con questo. Cosa è dovuta l'erraticità delle nostre scelte? Ci sono varie situazioni, io ne ho messe quattro, nella prima slide ce ne sono le prime tre, poi l'ultima slide la dedico a quella che secondo me è la condizione e l'influenza più negativa che possiamo avere. Intanto il dilemma etico di cui tanto parlo, può darsi che rispetto al codice di comportamento e ai valori che il codice esprime, emergano altri fondamenti razionali che ci appaiono altrettanto importanti, per esempio nel classico caso del dottor Rossi che non sa se segnalare una condotta illecita o meno, emerge da una parte l'interesse pubblico a fare in modo che quel comportamento illecito non ci sia più, però emerge anche un altrettanto importante valore della salvaguardia personale perché in quel momento, nel momento in cui lui segnalerà, effettivamente ci potrebbero essere i comportamenti di ritorsione nei suoi confronti, allora questo innesca un dilemma etico. Oppure feel good gain, sono parole che si usano a livello anglosassone per definire le motivazioni che spingono le persone a violare le regole. Feel good significa stare bene, avere una situazione di benessere, gain è proprio guadagnare, quindi guadagnare economicamente e la ricerca a volte illusoria di una maggiore felicità. In realtà nel caso di Marta il feel good rappresenterebbe l'idea di aver effettivamente operato con spirito di servizio e quindi in qualche maniera l'illusoria creazione nella sua mente che effettivamente gli genera un sentimento di benessere. Il terzo livello è ancora secondo me più interessante perché a volte noi siamo influenzati, spinti a violare le regole per una questione di status e posizionamento sociale perché se non lo facessimo saremmo esclusi da un certo gruppo e questo ha a che fare molto con la corruzione italiana che è una corruzione di status, non è tanto una corruzione spesso e volentieri non è tanto di guadagno, ma quei comportamenti mi permettono di far parte di un gruppo. Questa è l'ultima invece situazione, la più pericolosa, quella che io in qualche maniera sempre inserisco è la questione dell'asservimento, perché è pericolosa? Perché nelle situazioni di asservimento la riflessione sull'errore è impossibile, nel senso che l'errore e asservimento non parlano la stessa lingua. Perché è così pericolosa? Perché nell'asservimento, e quando parlo di asservimento parlo appunto di rapporti collusi in cui c'è qualcuno che in qualche maniera all'interno ad esempio della pubblica amministrazione promuove interessi che magari sono esterni in un regime appunto di asservimento. Immaginate lo scandalo sempre di Roma Capitale quando Buzzi e Carminati parlavano e si riferivano ai funzionari pubblici, ai dipendenti pubblici come persone proprie, quello è mio, quello lì è mio. In quel momento quando si genera asservimento il soggetto pubblico ha servito, il decisore pubblico ha servito, in realtà sta in maniera molto evidente sta realizzando quella che noi chiamiamo una delega di pensiero al soggetto dominante, cioè non avremo più una persona, abbiamo una specie di ectoplasma, di fantoccio, di un soggetto che in quel momento quasi non esiste, con questa persona noi non possiamo ragionare, con quella persona non vale la prevenzione della corruzione, con quella persona vale solo la repressione, con quella persona non si può ragionare sugli sbagli, non so se questo ha un senso anche per voi, ma secondo me l'asservimento è il pericolo più grande che c'è e quello che io osservo in maniera molto forte quando poi osservo fenomeni di corruzione. Ok, io avrei finito.